Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Oh, raga, fate la fila, lo sapete? Come sempre c'è un sacco di roba. È il momento dell'intervallo e i collegiali ne approfittano per fare merenda. Allora, abbiamo una merendina a mille lire e il panino a duemila. Panino. Vai, duemila. Prendo quello più grosso. Scegli te, a un video. Bello. Una pagnotta hai preso. Mentre Giulia Matera cerca di convincere Giordano a leggere la lettera della madre. Vorrei capire la situazione che c'è con tua madre. Posso capirla? La mia madre è una persona ignorante. C'è un infregatino. Mamma mia, ma come si fa? C'è una persona a te cara, ti scrive una lettera e tu che fai? Non la leggi. Ok, leggo questa splendida lettera senza tutte le cose. Nonostante la sua ignoranza è riuscita a capare due figli. Ricordatelo sempre questo. C'è proprio un... c'è il disprezzo, la disprezzi. Allora. Eggi la verità. Prima di due parole, virgola. La punteggiatura manca, tipo, amore mio, virgola, tesoro della mamma, virgola, come stai? Punto interrogativo. Tipo lei, virgole, punto interrogativo, non l'ha messi. Come stai? Punto interrogativo. No, no, devo prendere una penna rossa perché veramente... Non ti permette, eh? Sei un figlio speciale. Non mi ha mai detto. Mi prenderò sempre cura di te. Puntato. Virgola, amiss. Lo so che sarai bene, virgola. Sono felicissima per te, virgola. Sei la mia vita, un'altra volta. Il mio cuore, punto. No, amiss, punto. Comunque a correggere i errori grammaticali nella lettera di tua mamma è una cosa stattata. 29, 30, 31, 31, 31 errori. Siamo sempre così, virgola. Sei un grande, punto. Io sono fiera di te, nella vita, appunto. Nella vita bisogna essere sempre migliori. che è sbagliato. E... No, allontanatemi, allontanatemi. Allontanatemi, per favore. Ci sta commuovendo. Passa, passa, passa. Tenerone. Ti amo, mia vita, e continuo ad essere così. Sei fantastico. Mamma ti manda tanti baci, ricordati che sarò sempre al tuo fianco. Ti amo. E... Dalla fine non è così male, cioè. Prendere tutte le cose belle che ci dona. Sono contento che comunque adesso... L'erba, capito che viene dal cuore. Direi loro che me ne prego più niente. Che dolce. No, non mi toccava. Fa tanto il duro, invece sotto sotto. Anzi, adesso vorrei abbracciare, però... Un seguito. Non l'ha fatto manca un errore, vuoi... No, no! Tutta rosso. Voto... 10. Che dolciotto, alla fine ti sei commosso. È stato uno stronzo. Non vediamo che stronzo. Tutta rosso. 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 Tutta rosso.